Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Granata Super che mi chiede di riparare del film di Bob Ruffelson con Jack Nicholson e Jessica Lange, il postino suona sempre due volte, 1981, quarta trasposizione in realtà del romanzo di James Kane, la seconda in realtà più importante dopo quella del 1946 di Tay Garnet e qui libera comunque da ogni tipo di imposizione di censura il nostro Bob Ruffelson che aveva già fatto con il grande Jack Nicholson alcuni film tra cui il meraviglioso Cinque Pezzi Facili e riesce a girare una storia molto più morbosa e molto più erotica, la scena appunto che fanno sesso sul tavolo è rimasta storia pura in un certo senso veramente carnale sudata totale, Jessica Lange poi nel ruolo appunto della nostra Cora è assolutamente perfetta così come il grandissimo Jack Nicholson nel ruolo di Frank Chambers per l'appunto, il film comunque ambientato negli anni 30 è la storia appunto di questo Frank Chambers che girovaga in realtà per gli Stati Uniti senza utilizzando vari spedenti per sopravvivere, che è con un amico e si fermano in una tavola calda in California, gestita da questo Nick Papadikis che è appunto un immigrato greco, l'amico se ne va, lo molla dentro la tavola calda e lui fa finta di aver lasciato il portafoglio all'interno appunto della macchina dell'amico e quindi questo greco gli offre un lavoro praticamente all'interno della tavola calda che il nostro accetta più che altro perché ormai ha puntato Cora, la bellissima e giovanissima moglie appunto del nostro, lentamente fra Frank e Cora nasce una relazione e Cora dice a Presidente a Frank che il marito ha un'assicurazione sulla vita e loro quindi da lì decidono di ucciderlo e poi tutto quello che succederà, una serie di eventi una più interessante dell'altra per un film di Bob Raffelson veramente bello, un classico totale assolutamente, di sicuro non un capolavoro ma un film di quelli insomma che hanno lasciato il segno anche e soprattutto sulla mia generazione, ripeto per le scene erotiche, per quella sensazione di tensione che c'è sempre fra i vari protagonisti e poi ci sono due o tre colpi di scena che sono veramente ben assestati per un film che comunque ha una fotografia incredibile di Steven Nickist, una ricostruzione di costume e scenografie degli anni 30 che fa veramente paura, costellata da una grande musica di Michael Small che ci porta avanti in questa storia torbida, in questo thriller assolutamente particolare, in questo noir che si trasforma in dramma con uno dei finali più cattivi dell'universo per un film ripeto che riesce comunque a trasportarci dentro l'erotismo, riesce a trasportarci dentro la crudeltà, riesce a trasportarci dentro questo thriller appunto dove in realtà i personaggi cambiano idea ma poi continuano in realtà a rimangersi ciò che hanno detto, ciò che hanno fatto, appunto attraverso il classico rigido de noir, delle riprese meravigliose, piano sequenza sono splendidi, la tecnica del regista è assolutamente intoccabile, così come sono intoccabili ripeto gli attori per un film che ripeto è un classicone, è un vero film di quelli che non vanno persi, perché un'altra volta discute come fa sempre nel nostro sul piano sociale politico di un'America appunto degli anni 30 dove il sogno americano sembrava così vicino e dove il nostro Jack Nichols sembra poter arrivare a questo e invece piano piano tutto si trasforma mai in un incubo, quindi ripeto un film che coinvolge, un film che prende, un film che ha dei difetti, chiaramente ogni tanto è un po' troppo diciamo così dialogato, ogni tanto si perde un po' dietro delle parti che potevano probabilmente essere trattate in maniera diversa ma il film comunque rimane assolutamente una visione obbligata per tutti quelli che amano il cinema perché è una recitazione totale, perché Bob Grafelson è uno dei registi più sottovalutati della storia del cinema, uno dei più grandi della nuova Hollywood e qui insomma Jack Nichols e Jessica Lange in special modo la seconda che è meravigliosa fanno da soli il film se non fosse che appunto Raffelson è un regista mostruoso e riesce a tenere perfettamente all'interno di una narrazione pulita e quadrata che porta a casa alla stragrande, il link del postino suona sempre due volte nel 1981 di Raffelson è qua sotto, qui sotto c'è anche il pulsante del Patreon per andare appunto su Patreon e avere la vostra mini recensione, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente qui su Youtube, poi seguitemi su Facebook e su Instagram, pensate che cazzo faccio a giro per l'Italia, iscrivetevi, la lampanellina mi piace tra tutte le osse che fanno un tento sottoscritto e poi fatevi davvero contenti voi, se non l'avete mai visto questo è il postino sono sempre due volte nel 1981, è una visione obbligata in un certo tipo di cinema anni 80 che ancora si portava dietro quella forza della nuova Hollywood e che riusciva in un certo senso a sbattere contro il cinema solo muscolare che vendeva in quel periodo, fu un grande successo ripeto che è andato dimenticato, se volete potete riscoprirlo dopo questo mio piccolo mini video.